però purtroppo non sono riuscito a liberarmi prima dall'ospedale. L'argomento è un argomento importante, è un argomento interessante. Io vi dico che, ne parlavo prima, e questa non è la prima volta che sono chiamato all'interno di scuole a parlare di queste problematiche connessi all'utilizzo di farmaci, tra virgolette, di salvavita che riguardano soprattutto gli adulti. Peraltro, parlando prima, mi sembra a me di capire che si viene a realizzare una situazione diversa rispetto a quelle alle quali ero abituato e mi sono trovato a consultarmi nelle occasioni precedenti. Cioè, in solito mi trovavo di fronte a una situazione nella quale c'era una, tra virgolette, di vicenza da parte del personale insegnante, mentre una forte pressione da parte delle famiglie per l'utilizzo di questi farmaci. In sostanza, ora qui, dalmeno da farmaci, mi è stato detto stamattina di portare proprio per fare una dimostrazione pratica, poi, di come avviene questa cosa, mi sembra si stia parlando sostanzialmente di due patologie, una è il diabete e l'altro sono le pesie. non mi sembra che qui ci siano situazioni invece di allergie importanti, c'è anche qui, ok, quindi praticamente ci sono tre situazioni, ma il bimbo, la bimba, insomma, l'alunno ha l'adrenalina dentro con sé, in questo caso, dell'allergia, perché questo presuppone un ragionamento ancora diverso rispetto all'utilizzo di questi due patologie. Allora, da un punto di vista, diciamo, normativo, non c'è nessun obbligo normativo alla somministrazione di farmaci da personale non sanitario all'emergenza, ma non c'è nemmeno un divieto, anzi, tra l'altro mi sembra che ci sia una circolare del 2005 del Ministero della Salute, della Sanità e anche della pubblica istruzione che autorizza anche la somministrazione, però non si parla di emergenza, si parla di somministrazione di farmaci quotidiani che ne sono la pasticca, la supposta. È evidente che per tutto questo occorre a un'ottecisione prescrizione, cioè qualcuno che abbia certificato che quel bimbo ha questo tipo di patologia e in situazioni di emergenza si debba somministrare tutta una serie di farmaci. In questo caso, per esempio, si sta parlando del glucagone per i pazienti diabetici e si sta parlando di una benzodiazepina, tipo valium, insomma, tanto ben intenzia, anche se questo non è il valium, per quanto riguarda l'episidio. Però forse su questo bisogna fare un pochino di... Al di là poi vi faccio vedere dove si fa a confezionare il farmaco e poi la somministrazione che è molto banale, peraltro. Quello che voglio dire, va costruito un percorso per quanto riguarda le situazioni di emergenza barra, urgenza. Cioè, di fronte alla situazione di questo genere bisogna, ben o male, essere capaci di riconoscere la situazione di questo tipo. Quindi, di fronte a un dubbio, di fronte a una situazione in cui si avverte un pericolo della salute dell'alunno, per questo alcuno ha detto, ma insomma, a dire, si sta parlando di qualsiasi, ma cosa da fare per prima è quella di ondattare il 118. Io quello che consiglio, come stanno fatto in tutte le altre scuole, dove vengono coinvolto, è quello che venga fatta una segnalazione, questo da parte della famiglia, ma potrebbe essere fatto su delega anche da parte della scuola, della segnalazione del nome e cognome del gruppo o della minima, con la patologia che ha, e poi anche così, da un punto di vista della sua amministrazione, questo perché? Perché al momento in cui si viene fatta una segnalazione accompagnata da un numero di telefono con il quale si pensa di chiamare il 118, o anche il numero di telefono, nel momento in cui in quel numero di telefono con il quale sull'applicativo della centrale operativa, in automato si apre un link e viene fuori, c'è già un adez nell'infermiera operatore che quindi dispaccia, sottisce, fa il reale telefono a telefonata, già gli dice che si sta chiamando per quello lì, poi magari da quello un telefono chiamato per un altro, non è un problema, però già su quello viene messo, intanto vede la scheda, c'è scritto tutto per bene, sa già di cosa si parla, si guadagna un sacco di bene, e questo è il primo aspetto, quindi io lo dico sempre, per esempio il comune di Pistoia, in tutti gli istituti dell'infanzia, quindi che è il nito, oppure la scuola dell'infanzia, ce lo comunica automaticamente, infatti ce ne abbiamo una quantità, ma per esempio il comune di Paparagliana, anche a Montecatini, quindi insomma si stanno un po' tutto organizzati, io riterrei, non è un obbligo per nessuno, però questo vi facilita molto, facilita molto chi chiama e facilita molto chi dà l'altra parte di rispondere al direttore. L'altro aspetto, così come succede per tutti, poi si passa nello specifico, è quello di rispondere semplicemente alle domande che vengono poste, cioè farvi aiutare a capire in che grado di situazione di gravità ci troviamo di fronte, perché questo è fondamentale anche nella scelta della somministrazione del Papi, peraltro voglio dire subito una cosa fondamentale, il fatto per tranquillizzare tutto, il fatto di somministrare questi due Papi, di fronte anche alla situazione, la quale non c'era bisogno di stare tranquilli, non succede niente, non succede, cioè questo voglio dire, ma ho fatto un po' e sa cosa succederà, niente di partirolare, nello specifico avete fatto glucagonio, un paziente di albertico, in quel momento lì non era tipo glicemia, avrei a tranquillo sulla glicemia, ma non succede niente di partirolare, avete fatto la mezza di azepina, il micronotto, a un paziente in cui in quel momento lì c'avete tutta l'altra cosa, ma insomma poi alla fine non succede niente di partirolare, quindi vorrei dare un messaggio di estrema tranquillità a tutti, però ripeto, avete a disposizione un interlocutore telefono, che è un interlocutore telefonoico altamente specializzato per riconoscere queste situazioni, fate ripetere, se poi alla fine di tutto vi dici somministrate il pano, tranquillamente somministrate il pano, anche da un punto di vista tecnico legale, avete il supporto di qualcuno per l'altra cosa, qualcuno che fa questo lavoro è abilitato a farlo, è una preparazione specifica. Quindi costruire un percorso di questo tipo è alla base, è alla base di questo tipo. Nello specifico prendiamo il caso del diabete, un paziente che ha il diabete noi sostanzialmente dovremmo cercare di tenere la glicemia in un brezzo di normalità, ma ci sono due aspetti che si possono avervi da verificare, il primo è l'imperglicemia, che ci fa molto meno paura dell'altro aspetto che è l'imperglicemia. Cioè di fronte all'imperglicemia magari nessuno se ne accorge perché quando è un paziente in coma per l'imperglicemia ancora dai su valori assolutamente è difficilissimo, è difficilissimo e comunque i dati cerebrali che si possono vedere a realizzare la situazione di glicemia sono molto meno rispetto a quello dell'imperglicemia. Come ci siamo accorti? Allora, a parte il fatto che è difficilissimo che situazioni di glicemia avvengano durante le ore di urgena, di solito queste sono situazioni che avvengono durante la notte, perché magari c'è stata un'assunzione sbagliata dell'insulina, che poi è tutto un bilanciamento tra l'insulina e zuccheri, che sì. Ma mettiamo che succeda una volta di questo genere, il bimbo, la bimbo, non so che non si stia parlando, ma non mi interessa, chiaramente diventano più sonnolenti le situazioni di questo genere. Ma ripeto, in ogni caso, qualunque cosa accada, non è che si risolva un intervento, qualcuno deve entendere. Quindi si tratta di capire se io non ho nemmeno il tempo di aspettare qualche minuto perché arrivi il sofforso sanitario. E vi dico subito che assolutamente c'è tutto il tempo per aspettare anche il sofforso sanitario, perché in quel momento si occupate, la vostra si prolunghi, allora forse in quel caso lì ci può essere. Il discorso della terapia è diverso. Ora però io voglio analizzare questi due aspetto. L'altro aspetto, che è quello delle crisi compulsive, che nella stragrande maggioranza dei casi sono crisi compulsive, la fede. Poi non so se qui c'è qualche bimbo o bimba invece che è un epilettico, che è un epilettico vedo. Allora, la prima cosa da fare, come crederanno, è che il bimbo o la bimba va messo in sicurezza. Cioè, la prima cosa da fare è che non si faccia del male durante le crisi evidente. In quel caso lì, la somministrazione, che poi è un piccolo misterino, poi sostanzialmente, è quella di somministrare la benzodiazierina. Vedrete che una situazione di restringimento, una volta, passato, sempre che passi, anche lì, il soccorso sanitario è obbligatorio. Non è che avete fatto questo fare ma risolto il problema. No, assolutamente. Vengo, va capito, può perché è ripreso. Se è febbrile, va bene, sulla crisi febbrile, se invece ci sono dei pazienti epilettici, può va capito perché vi andrà ricontrollata la terapia, perché magari la terapia è la vera giustata, sono cose che non ci riguardano. Però, in una situazione di questo genere, quando una persona ha una crisi epilettica, una volta che questo è terminato, o perché termina per conto su, o perché ha risposto bene al farmaco, vedete che dopo dormi. Si va, qui la gente finita la fase post-fondazione. Dormono regolarmente, non vi dovete preoccupare. Qui, durante la fase osiclietta dello scuotimento, vari tanti si facciano dormiti, quindi vanno allontanati da tutto e lo dice di dormo, perché magari si possano fare delle auto-lesioni. E, sempre, dopo aver telefonato al 118, di fronte alla situazione, dura anche andare a somministrare la versi di azepina. Ripeto, non si fa nessun danno, un farmaco tranquillo, al massimo dormono. Sul discorso di adrenalina, ora se c'è qualche domanda su questo, poi magari lo riprenderei dopo, perché quello invece è un discorso un pochino diverso. Mi interesserebbe sapere se chi ha, se ho capito che c'è un caso di un paziente allergico, se è un paziente che ha la adrenalina forse. di adrenalina forse. Cioè, normalmente l'adrenalina è un farmaco che dovrebbe stare in frigorifero, ma insomma può alla fine, non è vero, basta uno stia al di sopra le 15 gradi di temperatura e dovrebbe stare alcuno. Infatti vedete che qui è in una confezione. Questo con un altro indiettore, tranquillamente si fa. Però ecco, sul discorso dell'adrenalina e delle crisi allergie ci vuole fare un discorso un pochino più specifico, perché è un problema un po' più, tra virgolette, e se si rispetta a questo. C'è qualcuna da fare qualche domanda? Il ragazzino ci sa noi, il dottore ha prescritto quel farmaco, c'è la richiesta e c'è scritto che bisogna aspettare 4 minuti prima di darlo. Se entro 4 minuti si smette niente, e se no anche questo, cioè 4, 3, 2, va benissimo nel senso che chiunque, come ho detto, si aspetta per vedere se la crisi passa per quanto su, cioè poi dopo, su 2, 3, 4 minuti, questo è un po' difficile. Se ti ha scritto 4 minuti, voi attenetevi a quello che è stato scritto. Ripeto, però anche in questo caso, in ogni caso la telefonata, anche perché qualcuno può soccorre, non è che si riduce tutto lì. Se dura di più, poi, dietro la guida, magari fare anche il disperimento, perché un po' di questo si va bene, perché qui non si tratta nemmeno di fare delle buone. Scusi, scusi, no, vedevo, sempre riferimento alle crisi epilettiche, ma un bambino che è sotto crisi epilettiche, va messo in sicurezza, la vita che si faccia male, va complica, come va a disposto. No, va allontanato dalle, perché scusi scuotono, che possono, possono dispiare. Allora, la situazione migliore è una situazione di sicurezza, quindi subiamo, ma quindi è in genere sul piano testo. Va, se è vicino a una superficie di questo tipo, perché sostanzialmente... E quello fa parte del buon senso, insomma, di non lasciarlo vicino. No, diciamo, magari in cui non ci può avere qualcosa anche... Allora, la cosa da andare a vedere, perché stringeranno, chi da bocca fa assolutamente l'italia. Questa è una vecchia... Poi non è che ci facciamo male noi, e non serve assolutamente a dire. Si muoverà un po' la lingua, fa parte del caso, probabilmente si farà anche la vita addosso, perché anche questo è... Va molto distinto se sono crisi febbrivi o se è una crisi epilessia, cioè un bimbo nel quale è stata fatta di angiosi di epilessia, perché suoniamo completamente epilessia. Se è per cui è l'altra. Questo è il caso. Perché gli altri, in sostanza, la prima cosa da fare è cercare di faticare la temperatura al cuore, quindi togli i vestiti, invece di magari anche delle pezze. Questo è il caso. Se dura, voi chiamate subito, se dura più di qualche minuto, ci può essere l'indicazione a fare questo, ma può anche essere che dopo cinque o sei minuti ci abbia avuto il medico. Quindi voglio dire, non è che... quindi va un po' io visto in quei casi. Ripeto, se c'è gente intorno alle quali si può fare male, qua da un'altra. C'è anche la signora. Normalmente la glicemia va normalmente tra 70 e 80 fino a 110. Questi sono loro. Non è che nessuno a 60 di glicemia non ha nessuna sintomatologia. Non ce l'accoggiamo niente. Come facciamo a accoggiare? Perché se no, risponderebbe continuamente, se lì, a fare la punturina del dito per andare a un gruppo destro e guarda la città. Perché qui poi comincia a essere, cambia molto, bimbo, bimbo. Insomma, qui io dico bimbo in senso generale. Diventa più sordolento, diventa poco interessato alle cose che che stanno intorno. Qualche volta cominciano un pochino, diventa grado, cominciano a sudare. A quel punto lì, io dovrei fare l'esame. Chiamate subito e vi fate consigliare se qua lo siano. Scusi, una domanda. Perché il problema è un altro. Non so se potete riconoscere che questo qui è la crisi classica del piccolo mare. Quindi, magari, invece di avere lo scondimento, ha solo una senza. E quindi, infatti, non è più facile. Da telefonare. Senti. Allora, nell'adulto, per assurdo, è più facile riconoscere una crisi filetti a rispetto al bimbo. Perché nel bimbo si parla o di uno stabile di mare filetti o reclamatissimo, altrimenti si parla del piccolo mare. Il piccolo mare, che sarebbe ovvero... Non ho spiegato la differenza. Eh? Cioè, il piccolo mare sarebbe solo l'assenza. Sarebbe l'assenza, sostanzialmente. I bimbi diventano assenti. Magari uno, se è in classe, il marco se ne accorge, ci sono delle situazioni che si risolvono. Si risolvono anche da soli. Perché uno, magari, ha un minuto d'assenza e poi dopo si riprende regolarmente. Magari a scuola. Quello accanto e in fondo all'aula. Si è risolto da solo e... quello, quello accanto e in fondo. Queste sono però le situazioni che poi anche o la crescita possano anche risolversi. E' meglio che sia così. Non lo so perché ognuno dice la sua. Io credo a quello che dice te. No. Allora, io voglio dire, io non sono un pediatra. Non sono un neurologo. La mia specializzazione è anestesia e l'innovazione. Quindi, io sono anestesista di animatori che da sempre mi sono occupato dell'emergenza. Sul problema della diagnosi, o è chiaro che ci sono molti problemi, sul problema, anche in questo ci sono problemi, ma sul problema invece del trattamento delle emergenze, questo sarebbe un più lavoro. Però, sul problema quindi, voi fidate, nel pediatra, nel neurologo, nel pediatra, nel didivo, io dico che adesso. Mi scusi, per esempio, se il tuo gimbo epilettico, a volte è capitato, una volta, credo, due, è capitato questo mini crisi, chiamiamola così, di assenzia, che magari è preceduta da l'ità della saliva, non se ne accorge dai lati della bocca, eccetera. Ecco, poi si riprende ma in questo caso è necessario dare il farmaco o no? nemmeno chiamare il 118? si, si, si come se vuol dirsi non gli saltate addosso aspettate un attimo perchè queste situazioni lì nella stragrande maggioranza dei casi si risolvono da risolvere e non ripeto, se alla fine i padri vi dormono dopo la prima tesi e la somministrazione del farmaco è possibile che ne ricompari un altro subito una catena di tesi? può essere anche che non gli fassi può essere anche che non gli fassi però ripeto, voi fate un trattamento di urgenza poi è chiaro che ci deve essere l'intervento sanitario questo indipendente e si può anche renderla secondo te? si può anche renderla però il problema è che a quel punto lì se si va su un dosaggio più elevato qualche volta questi farmaci qui a questi dosaggi non succede niente a nessuno se si aumenta enormemente il dosaggio c'è anche il bimbo è vero e dolce però ci sono anche problemi di tenuta delle vie cioè magari vi lasca la linfra comincia a respirare meno quindi tanto qualcuno arriva non è quello qualche minuto ci vuole per rendersi conto se nel frattempo voi siete già telefonati poi qualche minuto dovete attendere il professor ministra del parma un paio di minuti perché faccia effetto perché è vero che è per viaventare abbastanza veloce è un'epoca quindi insomma alla fine abbastanza veloce un po' è un'epoca la migliore della sicurezza della reale vengo detto prima se si in caso il bambino sia in classe anche sul banco se vuoi tranquillamente ecco il caso di di assenza il segnaggio lo si può notare un po' che magari o qualche scossa lo si può notare qualche piccola scossa o magari intende chiudere gli occhi oppure no no può rimanere anche gli occhi così infissati nel vuoto si si è come se uno si esprimasse una la sensazione è quella di vedere una persona che in quel momento lì insomma io lo so qui ma insomma ci vanno stare e ci fissare perché tanto vede venga la foscata non è oltre che è tanto scendio però ci si è anche scendio il parma che ho aspettato 40 minuti dalla prima è tanto figlio in vista diverso qui non si sta parlando di una bimbo bimba ma si sta parlando solamente di un problema che uno ha che in questo caso di fronte al riscaldamento improvviso perché dipende non tanto da quanto è la febbre ma da quanto ci metti a salire la febbre in questo caso qui il cervello per l'anomalia elettrica interna e basta ma che non è bilessia non c'entra nulla ha una reazione di questo tipo quant'anni c'ha due anni ecco due anni ha avuto una volta solo più volte più volte rientra rientra nei casi nei quali nel 30 40 per cento dei casi dopo la prima 30-40 per cento dei bimbi che hanno avuto una crisi epilettica si può ripetere fino più o meno in realtà di 6-7-8 anni questa è un pochino io l'ho avuta anche mia figlia io ero in ospedale sempre allora mia figlia c'ha 21 anni se lo riporto ancora la bomba però sono assolutamente benigni non succede niente il problema è sempre dove si facciano per male quindi cercare di spogliarli immediatamente mettere delle delle pezze bagnate perché lì il vero sistema è raffreddare il colpo questa è la posizione non c'è un punto preciso dove dire ok posso mettere la pezza lì perché il colpo è la propria vedendo le braccia ma noi bisogna raffreddare qui eh perché se io ho un po' per dire mantendola è vero che il calore si propaga ma io devo poi se si vuole mettere allora da un punto di vista l'inquine e il nostro provi a scegliere questi sono i posti la seconda provetta va fatta comunque perché dal momento in 40 minuti provetta in che senso questa quindi io ho fatto anche la seconda somministrazione infatti da lì è arrivato il dottore la febbre era comunque altissima l'ho portata via uguale quello senza la seconda ora però ecco magari cercare di fare alcuno un pochino prima per non aspettare la data 50 anni magari magari in quel momento lì può essere può essere però indipendentemente si può arrivare dipende anche da quando penso il bimbo il bimba ragione ma in questo caso anche a scuola dei maestri devo essere io a dire ok è una bimba che purtroppo non è che ti passa alla svelta cioè ed è quelle febbrile non è che siano quelle febbrile sono quelle febbrile ma non ha paura a carne però sono bene sì no io ormai ci convivo però per le maestre magari è un piacere magari scrivere che è una bimba e non ci vuole più tempo questo fa quanto scrive l'armenia ma l'ha fatto l'ha fatto fare un certificato in cui certifica che soffre di crisi epilettiche su base in quel momento nel caso di somministrare perfetto mi scusi in un caso d'attacco epilettico della lingua che le succede ancora io ho conosciuto una persona ho conosciuto una persona sono stati problemi gravissimi della lingua come è questo questo è abbastanza strano perché effetti quando c'è la lingua che cade è un problema di rilasciamento dei fuscoli che la tengono no? tanto è vero che la lingua non è in questi dosaggi lì dosagini assoluti sì ma è uguale allora in quel caso lì normalmente il problema della lingua è che rimane fra i tempi e quindi la stringe tanto è vero che è classico nell'attesibile è che le borsecature sulla lingua o anche sulle labbra perché le due cose in classe a parte le scosse che si chiamano scosse tonico-clomiche sono la borsecatura della lingua o delle labbra e la perdita dei lingui biologici quindi qualche volta anche i feci però la cosa più più classica sono le origini quella della lingua che cade indietro io sicuramente non l'ho mai vista in una situazione di esergenza se mi dice è successa ci vedo molto molto strana proprio anche da un punto di vista fisiopatologico che succeda magari può essere rimasta serrata e gliela occlusa ma comunque tenendoli su un fianco il problema della lingua è che lì praticamente è tutto contratto capito? il problema è che su un fianco è in posizione di iperestensione ma quando ma questo va bene nel paziente placido quando il paziente è pirato quindi cioè anche da un punto facciamo dire immaginare che possa essere caduto se non dice ci mancherebbe da magari invece della lingua è un paziente adulto magari c'è una protesi si è distoccata può essere questo quindi si arriva a qualche minuto da aspettare tranquillamente perché perché il farmaco bisogna essere sicuri che siamo di fronte a una fisica conoscente quindi il primo aspetto è di avere un segnale d'allarme sulla sintomatologica quindi il bambino che cambia amore che è meno interessato a quello che magari comincia a essere anche il suo momento questo è successo una volta che il termine però abbiamo chiamato la mamma ora che c'è molto di tutto 52 56 va beh insomma la mamma ha scelto le tue 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 anche voi anche voi costa molto di tutto il vostro garantito però per il resto cosa è successo per questo allora questa lontina abbiamo ripetutato la la vicenda dopo un po' un po' un po' stava un po' preoccupata ha detto il 118 ma che fanno perché o no se la rabbina appunto anche il fuoco di tutta appogna sì sì come le cose allora il problema dello zucchero in sotto alzio che hanno una bustina di zucchero assurdo per il piorare non è che sia un'emozionale che entra da dello stomaco deve essere elaborato o vada deve essere assorbito deve entrare in circo sono tempi lunghi ed è di fronte alla glicemia di quel genere lì si può anche immunizzare una cosa del soggetto del genere questo farmaco lo si usa per forme gravi perché il problema dell'igolicemia è un problema che il trasporto di ossigeno cioè l'utilizzo di ossigeno all'interno del cervello è legato allo zucco per cui se non c'è lo zucchero sufficiente non può essere utilizzato l'ossigeno del cervello di ossigeno del cervello è come se non rimanessi senza ossigeno respira regolarmente ma gli mancano gli sintomi nei neuroni per poter utilizzare quindi molto dipende anche dal sintoma della glicemia poi ripeto 52 56 non sono situazioni nelle quali bisogna dargli questo fatto ne sto parlando di situazioni in cui la glicemia scendeva molto 30 35 quindi ancora c'è una sintomatologia importante ecco di fronte alla situazione del cervello poi alla fine di tutti i quali questo l'avete fatto di trovare ma ora magari se li trovo un ugetto di glicemia non succede nessuno mi scusi parlando sempre riguardo alla patologia diabetica il discorso del glucavone a me hanno sempre insegnato di somministrarlo solamente al momento dello svenimento perché siccome la sintomatologia diabetica dà dei segnali il bambino perde la cognizione sensoriale cerchiatura degli occhi pallore sudorazione fredda ci sono altri metodi per correggere un inizio di glicemia senza fargli un'iniezione già ne fanno 50 al giorno cioè può essere il gluco sprint può essere già dei preparati cioè per esempio mio figlio ha sopportato una glicemia di 24 e non è proprio per cui è molto soggettiva la cosa cioè io so che quello lì mi hanno sempre insegnato a darlo al momento dello svenimento per quanto riguarda il tempo di aspettare io non so se veramente sia il caso di aspettare visto che c'è una sofferenza cerebrale proprio per il discorso che ha fatto lei che non viene più guardando il sigeno al cervello se si può aspettare a somministrare in un caso di svenimento io parlo di un bambino a terra cioè aspettare che arrivi qualcuno con un farmaco salva vita io non parlo di inizio di glicemia io sto parlando di svenimento a terra cioè non c'è non credo che ci sia da aspettare dei minuti o chiare di qualcuno cioè a me mi hanno sempre insegnato subito non aspettare 3, 4, 10 minuti perché loro poi vanno in coma completamente poi cioè hanno una sofferenza e si sa celebrare che poi quando si svegliano sono deficienti insomma si a me mi hanno sempre insegnato questo sempre sempre qui si sta parlando dei casi diversi quello che sta parlando ora era un caso di un bimbo con 50 deficienti io dico si può tranquillamente arrivare a sopportare anche 30 non è quello che certo anche 24 e di me posso parlare? certo grazie se questa storia qui io la conosco bene insomma non è che io faccia il meglio da lei e l'altro e in ogni caso ne ho visti più di più di due di queste situazioni in rianimazione non abbiamo di non bimbi chiaramente perché non ci occupiamo di rianimazione per l'aria ma ci occupiamo anche quindi il cervello supporta molto su questo punto di vista ve lo posso garantire il problema è chiaro che di fronte allo sperimento di un bimbo che siamo a una situazione che non l'abbiamo ancora affrontata perché qui ho detto il bimbo perde interesse il bimbo comincia a ad avere eh sbaditi quindi sondolenze il bimbo comincia a sudare sbianca è evidente che siamo a una situazione di estrogente ma di fronte a una persona che non sa perché fa un altro lavoro potrebbero essere centomila i casi che portano a una situazione di estrogente è evidente che siamo di fronte a un paziente diabetico e il primo sospetto è quello del paziente diabetico un paziente diabetico che è andato un po' tramite lucemia questo è evidente allora a quel punto però bisognerà fare l'unico di una dosi prima di fare l'ulcacone cioè la macchinetta vuole fare lucemia uno più uno fa due gli fa l'ulcacone ma anche quando è svenuto gli fa l'ulcacone cioè gli fa lo stic quando è svenuto ma se è motibro è un altro se il bimbo in quel momento lì ha avuto l'emorragia cerebrale quanti lei gli fa il clucagone ha avuto l'emorragia cerebrale e gli aumenta la lucemia e gli fa un danno non è solo quello il problema perché tutti siamo finalizzati a quel problema lì che è il problema della lucemia ed è vero perché magari è sicuramente un'ipoficente ma potrebbe avere altri centomila cause per i quali questo farmaco è controindicato se uno per esempio in quel momento lì ha avuto il giorno prima un trauma cranico e il giorno dopo va in coma che è una cosa che porta a dire uno dei farmaci controindicati è un coso che va indicato come la peste allora la prima cosa siccome per fare uno stick e per assfigurarci ci vuole mezzo minuto per fare questa cosa perché non ci vuole niente di particolare non è quello che posso assfigurare che crea la cosa io voglio sapere questo solo per sicurezza poi ripeto non è che qui si sta parlando di una situazione noi avevamo analizzato un altro lato io ho disperimento ma che ci vuole arrivare per la verità perché evidente è una situazione in quel caso di tramata perché è vero qui si stava parlando di una situazione nella quale mi diceva questa ho telefonato alla mano la mano va dentro non glielo fare perché è ancora una situazione tranquilla a me mi hanno sempre insegnato di usare comunque al bisogno metà dose cambia va bene va bene va bene e poi controllarlo va bene anche lì dipende molto da chi da cosa su cosa ci si trova di fronte per la situazione della marca è una cosa una situazione borderline è un'altra va benissimo anche metà dose non è quello non è quello il problema anche su questo quant'è il peso del bimbo quant'è anche cioè è tutta una situazione allora ne fa mezza ne fa uno zero va bene perché se si entra nel rapporto pari dose in base al peso allora che si può trattare in farmacologia dottore la venta 5mg o 10mg da che cosa dipende dal peso del bimbo dalla gravità della dal peso dal peso dal peso quindi più crescano più ci vuole sì perché chiaramente è come se dalla tachipirina via via e cresce aumenta il dosaggio che male per tutti i farmaci dottore tanto era mai era una mamma esperta sul quadro sulla tachipirina non c'era un filo dal tibio di un altro è opportuno farle vedere ah sì allora questo è il glucacone va preparato l'iniezione si può fare in qualsiasi parte del corpo non importa anche una coscia una situazione di emergenza no l'unico problema è che va preparato perché penso perché ha un solvente e un soluto cioè a lui schiaccia quindi dovete aspirare l'acqua perché questa è acqua di età no è acqua distillata perché la fisiologia non ci fa male e non ci garantisce e neanche può quindi è acqua distillata l'anima dà per il tetro vuole riaspirare lo fa ma sì la rinanzione è acqua ma sì la rinanzione è acqua ma stiamo in casa è acqua è acqua è acqua è acqua c'è acqua è acqua sì si 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 quindi non lo so io noi siamo abituati a usare questo dentro non ho mai vista neanche io sono solo che ha una confezione a ragione beh l'imposta la tenere il frigorifero perfetto no beh l'imposta non lo so sinceramente allora io ho portato questo perché quella da noi magari come per l'anima che noi per esempio quella che ho fatto questa io per la prima volta l'ho vista andando a questo incontro perché noi sappiamo che ha la tenanina è stato il frigorifero anche questo è stato il frigorifero eh si 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 e quindi va aspirata la tenanina e invece vi è già pronta se c'è anche quello il 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 nel caso non ci abbiate quella, hai un affare così? è una confezione di plastica, ha ragione chiusa ma grande o sì? e allora c'è la sinistra già pronta è già pronta e allora niente, ti sarà un affare così con l'attenzione già pronta va miscelato, è quella, va miscelato, c'è solo la siringa dentro quella che è a lei, lei ce la deve avere una siringa a mano nella scatola, nel kit, c'è la siringa però comunque c'è il va miscelato c'è la siringa in blusa è un modo per essere sicuri che la siringa ci sia e io però questo non lo so come la fate vedere però questo vi posso garantire l'ho visto altre volte, è già dentro la siringa quindi è già pronta la stafaglia come? la dinamica la dinamica io sul cagone però ripeto io sul cagone ho questo cagone dentro e qua mi riporto il tuo cagone quanto volete non superando la temperatura quanto può stare il cuore del frigo? il mio altro tema Matteo Schia è sposto al calore si sta parlando di 20-20 gradi si può stare tranquilli quindi oggi farmaci è proprio da frigo da frigo proprio da dire ma nemmeno più l'adrenalina che era il farmaco verde l'unica cosa vedete non a caso questo è all'interno di una confezione perché sono molto non è il caso di questo l'adrenalina è sensibile invece alla luce si disattiva tant'è vero è bello si girate avrete vedere anche semplicissimo rompere i piedi e poi si parte da un fisterito perché si deve rompere i piedi un po' questo in sostanza è molto simile a un microchismo l'unico rischio è quello di farci questo è un rischio noi abbiamo scritto comunque nelle regole che ci devono essere presenti sempre in due confezioni e se il genitore non lo porta il secondo lui non lo porta ma se non lo porta non ce l'ho fatto non ce l'avete bisogna essere un po' di controllo non è normale ricordatevi che i passaggi in un intervegge sono chiari non è che non si va con un grado di vaccinale ma certo c'è un verbale di consegna dei medicinali cioè mi dice tu decideri di consegnare i medicinali noi abbiamo chiesto espressamente che ne venissero consegnate di due dosi proprio per i consigliosi dicevamo una versione dei rischi diciamo più prevenuti appunto che per i presclusi no infatti il momento può essere la fiamma caschi ci si rompa magari l'ho visto nella uccitazione del momento ma non sarebbe una crisi di elettrica non è bello per nessuno oppure una crisi coficenica serica quindi nella confezione c'è scritto guarda le istruzioni se ha fatto i cristiani non usano mi dice una cosa colpire no dentro è come allora vuol dire che a quel punto lì il prodotto o è scaduto voglio dire in ogni caso sappiate una cosa se si fa farlo o scaduto non fa niente se avete il quadro del 1500 può essere il quadro questo potrebbe essere o perché c'è una romania nella formulazione e nella fabbriazione della fiamma si portano proprio degli scaldi è difficile da fare degli scaldi senza che scaldi sono come se ci vedete bene è pezzo bravo qui in parte non va subito vuol dire che il farmaco il medicina si dice il precedente vuol dire che i componenti che un c'è un farmaco assorbe per tenere dentro il principio attivo del truccatore ma dentro ci sono tutti i miei poeschi 10 piedi no perché non è che il farmaco assorbe sono stati e ci sono tutta una serie di sostanze che in realtà per niente non ultimo anche l'acqua non ultimo anche l'acqua che potrebbe avere dei problemi perché come tutte le cose che vengono a male le macchine possono minimare anche i farmaci se voi al momento in cui vedete che c'è una situazione che ora quello sarà già voluto se vedete che ci sono come dei sali dentro un viscolo materiale stradale che deve essere metto allora a quel punto il tempo può assumere un colore chiaro ma l'importante che non ci siano agglomerati nel caso lì non va a fare dottore le perenti vanno tenute delle crisi eplettiche vanno tenute in frigo queste? quelle già sì di microspasma anche dentro anche dentro se tenete in frigo non succede non è che c'è un tipo però per esempio noi oeste non veniamo free e guarda il frigo da brutti di un mila tantoni c'è pure il ciocco che si può sì perché ripeto il problema allora ripeto l'importante perché ci garantisce il fatto che non va risposto al di sopra della cera che sono tutti ma in genere sono sui 20 15 20 gradi il fatto di stare dentro il frigo ci garantisce questo perché se magari l'estate sta fuori e in una casa ci sono 30 gradi il file fa può stare fuori una vita basta che rimanga e poi regge la temperatura che si può fare quindi il fatto del frigo voi potete non vedere però che siate sicuri che non va sopra la temperatura che ci spino sulla confezione meglio prendendo il frigo la signora va a chiesto anche no non no anche sì perché me la stanno spiegando l'estate magari troppo caldo quindi si fa se ho restato in questa passata non potete neanche poi appunto se ho restato con la tre forse per me non è l'altro allora direi che se ma su questa parte qui ci siamo esauriti un po' tutte le questioni se ti interessa sapere qualcosa sull'azionina allora il problema degli allergie il problema delle allergie sono tutti problemi seri no però il problema dell'allergia è un problema serio nel senso che anche questo però ha una gradazione perché si va dal fenomeno al verde preparare che può essere il tema costruito con tutta una scala di un aumento di gravità fino a quello che è lo shock anafilattico e lo shock anafilattico può essere montato quello può essere montato allora la prima cosa da fare è la conoscenza cioè sapere a cosa è allegico il soggetto questo è fondamentale conoscere che tipo di reazioni allergie ha avuto in passato cioè quanto sono state gravi queste reazioni il che però il fatto che non abbia avuto reazioni allergiche gravi non ci garantisce al 100% però ci dice che sostanzialmente ne ha avute altre che non sono state gravi perché se per esempio ne ha avuto un'altra gravi allora bisogna stare molto con le altre le altre la prima cosa da fare è prevenzione questa è fondamentale stare per esempio io sono stato l'altro mese all'alianco e c'è un bimbo che è allergico mi sembra le nocciole non mi ricordo qualcosa di allevante o qualcosa del genere a che è uguale e lui ha avuto già una reazione allergica grave è evidente che questo va evitato quando si fanno i pasti non so se mangiano se mangiano qui che bisogna evitare assolutamente che mangino sono bimbi molto educati sanno tutto lo ripetono cioè viene fatto proprio un'educazione però lo dobbiamo sapere anche noi cioè evitare tutto quello con i quali che vada a contare o per vi alimentare o anche per contatto proprio cutaneo o anche respirare perché qualsiasi cosa può essere può essere assolutamente tra virgolette anche mortale in questo caso allora non è così facile riconoscere la situazione di questo genere perché si riconosce bene se uno comincia a respirare male perché magari c'è l'attacco d'asma ma se hanno scioccato anche io vedo in realtà questi cascano per terra perdono conoscenza e io non sa neanche che gli è successo di fronte a una situazione di questo genere ci aiuta molto a quel punto lì in pochissimo tempo ricostruire cosa può essere successo cosa stava facendo stava mangiando magari ha dato un morso al dolce dei compagni dove dentro c'era qualcosa di questo genere e allora qui il caso lì se chiamata 118 e tutto c'è l'indicazione a fare anche l'adrenalina che è un farmaco che qualche problemino lo può anche creare cioè qui si sta parlando tra virgolette di farmaci più tranquilli qui si sta parlando di un farmaco esattissimo però è una situazione nella quale qui veramente ne può anche spiegare ma anche però qui veramente di fronte a una sciocante altri che però tengo a tranquillizzare sono rarissimi sono veramente rari 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 però può capitare una situazione di questo genere allora arrivare a somministrare il farmaco è evidente da ultimi pertenze dopo aver fatto la chiamata aver aiutato il mondo nel più breve tempo possibile la cosa da fare fondamentale è stare molto attenti e quindi il meccanismo di prevenzione cioè stare molto attenti che non vengano a contatto con queste sostanze questa è la cosa fondamentale di fronte a una situazione molto 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 compromessa c'è l'inviazione a fare di una questa come si fa dottore? è tra muscolo dove vi capito una oscia c'è un'altra frediettore con lo stanto con la stagione però guardate l'allergia con le medicine si dà il vento vero? no perfetto si sta parlando sempre con lo shock anafilatico allora guardate su questa cosa qui lo shock anafilatico è una situazione alla quale può portare a morte il paziente in un filo di un filo anche il cortisonico non serve a subire perché nel trattamento delle forme allergiche se senza stare pensare lo shock anafilatico di fronte al suo stesso genere il farmone scelte è la denamica a seguire l'antistaminico e poi il cortisonico perché il cortisonico prima è faccio effetto passa l'uomo quindi lei lo può fare tranquilla con il corso ma si aspetta gli faccio effetto il cortisonico questa è la idea del trattamento di emergenza discorso diverso invece è quello che ha un'allergia ho fatto una buon allergia un'allergia non certamente questo bisogna dimenticarsene allora va bene l'antistaminico e il cortisonico si parla anche di persone adulte non cambia niente a tutti i bambini qui non cambia assolutamente niente la mia mamma è venuta in uno shock al tirattico si aspettava il cortisone gli hanno fatto il cortisone l'ambulanza il ventila il ventila ma non era una situazione gravissima perché vi posso garantire se è una situazione gravissima ovviamente non si sarebbe salvata quindi è una situazione di allergia derivata da una medicina perché questo può succedere peraltro senza saperlo e peraltro può succedere anche perché le cose prima la pagare non aveva preso non aveva fatte esatto ma questo non finisce questo prima si è sensibilizzato secondo alfano non è allergica ma è allergica a uno degli eccitini che ha l'apenicentina no quello è farm però potrebbe essere allergico come qualcuno dice io sono allergico al cortisone sì cosa non si però ma è vero perché qualcuno ha preso il ventila per esempio e ha fatto un'allergia ma non è il il o il bisogno eccedente si chiama appesano ventametasonica sono gli eccitini magari l'ha preso una ditta e a quelli perà cambia cambia figurazione e allora come sintomo un rossamento un po' delle labbra può essere un solo di tolleranza o una forma allergica delle labbra la bambina ha mangiato del kiwi e si è rossato in maniera insolita le labbra e si è anche un po' gonfiato e si è un po' gonfiato quindi è da riproduzione vedete conto che se ho un allergico ai tipi molte volte perché c'è un incrocio allergia all'attici all'attici sono stati fatti perché sono descritti questi incroci fra l'allergia ai frutti tropicali in primi ma anche altri e in altri ma anche il concetturale allergia a fattori di poltini allergia anche a cosa di vita si si no ma questo perché è multifattorial mentre in più gli allergici poi qualcuno è allergia al finimondo anche a dare a sinestina no ma questa esce proprio di lattice con i rialti mangio questa roba questi farmaci si farmaci come anche le aranje rosse di rinforzamento no no sono questi rinforzi ma questa roba mi fa fare questi farmaci si fanno questi tutti i tipi no le aranje rosse poi che c'è però qui c'è proprio l'introcio del strato io ho il figlio che c'è la reazione sia le aranje rosse che a io e a l'arma beh allora in quel caso l'aranje rosse ci ritornava no l'aranje rosse ci ritornava perché quello è una cosa c'ha più allergica no ma è legata proprio questa allergia accrociata tra il lattice e questi punti caso di l'etema della glottide è uno dei casi da fare questo perché non si rispita ma quali sono le voci di attenzione dell'adrenalina e dell'adrenalina no l'adrenalina non è che c'ha del contro in reazione c'ha degli effetti laterali perché questo è un farmaco che è vero che broncodilata quindi fa respirare bene è vero che sostiene il circolo in caso di shock perché provoca perché sostanzialmente vagi che su tutta una serie di recettore si chiamano le alfa l'energia la crisi è trattamente difficile ma sostiene far respirare meglio le case di crisi asmatiche questo indipendentemente anche possono non essere allergiche evidente si usa essendo un farmaco pesante ma dall'altra parte ha reazioni importantissime per quanto riguarda l'apparato cardiocircolatore quindi aumenta l'attività del cuore in realtà l'aumenta in un modo esproniziato non siamo in grado noi di capire quanto lo possa aumentare fino a anche i dati minimi dall'altra parte provoca una vasolostrenzione perché se noi sappiamo che poi alla fine l'apparato cardiocircolatorio funziona come un sistema idraulico cioè un sistema idraulico nelle tubature il motore è una pompa quando io accendo la pompa viene pompata l'acqua all'interno di un sistema idraulico io parlo cioè il cuore che pompa il sangue all'interno dell'attività cardiocircolatorio se io ho una caduta di pressione come farei o aumento la pompa la potenza della pompa oppure riduco il calibro delle mie tubature che sono le arterie l'atrenaline fa tutte e due aumenta la potenza della pompa e rimando la frequenza lo fa battere più forte e nello stesso tempo vasocostringe cioè mi riduce il calibro delle arterie e quindi la pressione di sangue però questo fatto qui non è che sia una cosa che si a costo zero a un costo non devo dire il mio cuore perché improvvisamente è come se il mio cuore lo facesse andare andasse a scalare non fosse aderato basta una prevenza di 80 magari va a 200 di prevenza non è che possa durare tanto cioè gli fa anche marketing quindi il problema può essere questo dice alla fine che si fa anche fuori che vince una di buona dunque se non ci sono altre domande vorrei le domande personali poi c'è una talispa voglio dire una una sola ma per i pazienti con celiachia per i farmaci non c'è da niente solo ho il paziente con celiachia che si sta parlando di un altro problema e poter alzare tutti si entra nel campo delle energie alimentari ma che non arriveranno mai a tali suoi no non esistono allora della energie di ringraziamo il dottore insomma io credo che ci serva per gestire i materiali più tranquilli non che ci abbia tracoscito però però non si abbia l'unità di amici e di fare la attività di assenza grazie a me assenti ci sarà una ripresa un'altra Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.